Roberto Saviani, in libreria con noi due ci apparteniamo Stessa amore, violenza, fradimento nella vita dei boss Edito per il RCS fuoriscena Da qui è tratto lo spettacolo teatrale che arriva il 3 maggio a Roma Se lei è d'accordo partiamo dal caso Scurati Questo è il documento interno RAI in cui è scritto che la partecipazione di Scurati In qualità di autore di testi creativi viene annullata per motivi editoriali Cosa hai pensato quando hai sentito questa notizia? La verità? Sì Ho pensato, avete visto? Ora è toccato a voi Perché a te era successo qualcosa, diciamo anche Non lo so, non si mettono in classifica queste cose Però a te era successa una cosa pesante, no? Enorme, enorme Io ho fatto una trasmissione, Insider, la seconda stagione per RAI 3 La prima era andata molto bene Un programma sulle organizzazioni criminali Un programma dove avevo intervistato la sorella di Don Peppe Diana Il parroco ucciso a 30 anni a casa di Brinchi E che è successo? Hanno cancellato la trasmissione Senza ragione La trasmissione è stata montata Presentata ai palinsesti a luglio Pagata Presentata ai palinsesti? Presentata a luglio E poi d'improvviso io non ho avuto nessuna comunicazione E' stata cancellata I giornali di destra hanno motivato loro Violazione del codice etico Non è stato mai violato il codice etico E ne, devo dire, l'ad Sergio ha dichiarato questo Ha solo detto Per mia decisione Ed è vero Ha il potere, in questo senso totalmente arbitrario Di chiudere una trasmissione E non ha motivato Sai cosa è successo? Tranne pochi Amici scrittori I miei lettori Che sono stati anche pieni di passione Hanno raccolto migliaia di firme Ma diciamo tranne pochi Silenzio Perché questo? Cogline il dato più profondo Quello che ci può insegnare come siamo fatti noi Io credo che ormai Quando tu diventi un intellettuale Una figura che critica il potere politico Dopo un po' sei percepito come un affare privato Del potere politico Cioè è un problema tra lui e Salvini Probabilmente questa cancellazione Il mandante e Salvini Probabilmente E quindi dici No, non riguarda tutti noi E' lui E' lui che è esagerato E' lui che si è sempre posto contro E' lui che ha sempre avuto quella voce critica E' lui che ci ha guadagnato E' lui che in qualche modo si posiziona in questo modo In questa fase Perché ne prende un vantaggio Allora aspetta Costruiamo il meccanismo Tu a Meloni non piaci Guardiamo Saviano Hai fatto i milioni sputtanando la tua città E poi te ne sei andato a vivere a New York Non ci venire a pontificare Puoi dire io con te non ci parlo Come fa Roberto Saviano Che mi dà della razzista tutte le settimane Ma ogni volta mi ho chiesto di fare un confronto pubblico Sull'immigrazione è scappato Storie da raccontare Che nessuno scrittore racconta Forse perché i camorristi fanno vendere molto di più Ci si fanno le serie televisive Regalano celebrità Ricchezza Allora noi la prendiamo Come una immagine che passa Guardiamola da fuori C'è uno scrittore E' quello che è il presidente del consiglio Che ne fa il nome E lo indica Scuratti dice Io guardate Quando Meloni ha fatto il mio nome Mi sono trovato un bersaglio sulla fronte Esatto E sono contento della sua analisi Che ha avuto anche il coraggio di dirlo Perché spesso uno tende A nascondere queste paure Io sono 15 anni Che ricevo questo Queste sono parole di orrore Io sono uno scrittore Sono un cittadino Non ho il potere Non solo del presidente del consiglio Ma anche del capo dell'opposizione I politici hanno un potere Hanno il Parlamento A loro proporzione Io sono No ma Chiaramente sono emotivamente In queste ore coinvolto Perché sto finalmente dicendo Quando succedeva a me Quando succedeva a Michela E molti colleghi Zitti Michela Murgia Michela Murgia O ci scrivevano in solidarietà in privato Pensando Vabbè ma è un problema loro Queste parole sono un orrore Io sono In questo momento in processo Contro un boss Da 15 anni Francesco Bidognetti Quindi lo Stato In questo momento Sta processando Un boss Un processo lunghissimo Che ha minacciato me Non solo me Ha minacciato il magistrato Canfiro De Rao Raffaele Cantone Ha minacciato Rosario Capacchione Cioè c'è un clan Che ha detto pubblicamente Secondo l'antimafia Se condannate i nostri uomini Loro sono i responsabili E lui indicando me È quello che condiziona La giustizia Con i suoi libri Arrivano queste persone Arrivano Meloni che usa quelle parole Nota Cosa hanno detto I scurati Fa soldi sul fascismo Vedi È la stessa logica Ci sono anche di Fazio Nel momento in cui Tu alzi lo sguardo E critichi il potere Il tuo lavoro Diventa un furto Allora Ti pongo però Quella questione Ti porrebbero loro Ma come tu Ci attacchi Ci attacchi direttamente Ci dai dei bastardi Come fatto in trasmissione Da Corrado Formigli Cosa per cui Sei anche processato Per una loro querela Condannato in primo grado E dopo Pretendi che noi Non rispondiamo Assolutamente sì C'è una disparità Io da intellettuale Chiaramente posso essere Criticato ferocemente Ma sto attaccando il potere E lo devo fare Nel modo più radicale possibile Io scelgo questo E di fatti Mai un primo ministro Prima della Meloni Aveva portato in tribunale Un giornalista Un intellettuale Mai Né Berlusconi Né D'Alema Né De Gasper Nessuno D'Alema Prima di diventare premier Aveva portato Sorattini Ma aveva ritirato Ma sai È molto semplice Perché l'insinuazione Che si fa Ed è il rischio Soprattutto le nuove generazioni Questa cosa Non la colgono Tu hai un milione di follower Sei pari a un primo ministro Non è così Il primo ministro decide Questori Poliziotti Ha un ruolo Davvero Di potere Io ho solo il potere Della parola Se tu fai così Mi intimidisci Se tu fai così Fai pressione sui festival Fai pressione sulle istituzioni Ti isoli Lo sai quanti Quanti messaggi Sto ricevendo Dagli intellettuali Che in questo momento Sono sotto processo E dicono Ora capisco Perché non è mica Solo la querelina E quindi il tribunale E l'effetto domino Tra l'altro tu hai detto Che siccome ti dovranno Invitare una trasmissione A parlare di questo libro Tu hai parlato Con un alto vertice Con Rossi E hai detto Beh qua Almeno mi farete andare Lui ha detto Non c'è problema E le trasmissioni Si sono tirate in via Comunque hanno timore Comunque hanno timore Non conviene Diciamo Non conviene Allora io ti faccio La domanda Cosa ci guadagna Il potere Da questo atteggiamento Nei confronti Di chi lo critica Trasformarlo in una macchietta O trasformarlo in un mostro Indicare i motivi Abietti Per cui lui lo critica Cosa ci guadagnano? Anche qui Giovanni Vuoi la verità O devo essere diplomatico? No la verità Sennò Perdi 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 l'identità Vai E la verità è che ci sono riusciti La verità è che questo atteggiamento Funziona Funziona Ma ti sembra Quelle parole che abbiamo appena ascoltato E ti ringrazio Di averle messe Vicine Lo sai che in Francia In Inghilterra In Germania Non ci credono Cioè io ho dovuto mostrare Questi video Perché il primo ministro Non può fare così con un intellettuale Non può isolarlo E bersagliarlo Non può dire scappato Guadagna dopo che vivo Da 18 anni sotto scorta Guadagna dalla criminalità Le serie che fanno numero Quando io avevo criticato Quello che aveva fatto a Caivano Cioè le menzogne su Caivano Non si fa Non è possibile Perché il potere Non può minacciare in questo modo Perché funziona? Guarda Tutti in queste ore Stanno dicendo Hanno censurato Il monologo di Antonio E tutti Ne hanno parlato Quindi L'abbiamo mandato Sulla sette L'hanno mandato L'effetto non era quello L'effetto non era mica Nascondere le parole Discurati Anzi è lei stessa Che le espone Postate Poi c'era solo un passaggio Di quel monologo Che loro dava fastidio Il passaggio sul premier Sulla premier Sull'antifascismo Mai dichiarato Dalla premier Ma loro in questo Diciamo Atteggiamento censorio Vogliono minacciare la persona E tutti gli altri Cioè cosa succede da domani? Succede che ci pensi due volte Prima di presentare un testo controverso Ci pensi due volte Prima di Prendere posizione Se hai bisogno Per guadagnare Per volontà d'arte Dei teatri Dei festival Dei progetti televisivi Dei progetti cinematografici Ti tolgono il tax credit E vedi gli sceneggiatori In questi anni Se si possono esporre Come facevano all'epoca di Berlusconi Ci si adatta Dici Certo Ma anche perché mancano soldi È un paese in crisi I giornali I giornali Non hanno soldi I posti sono pochi Se ti tolgono una trasmissione Non hai un'alternativa Se ti tolgono un giornale Non hai un'alternativa Quindi tutti hanno paura Loro ci sono riusciti Su di me ci sono riusciti Ma con Berlusconi Era meglio o peggio? Era diverso per tante ragioni Io per esempio L'esempio di Vieni via con me Facciamo Vieni via con me Con Fazio Rai 3 Facciamo il record Non so se ti ricordi Il record Proprio di Rai 3 La volevano bloccare Ma c'era una società civile Così articolata Così importante Un'opposizione comunque Che riusciva a reggere I colpi Di un'eventuale censura E quindi la trasmissione Andò in onda Poi Non ci fu fatta più fa Non è stata più fatta Non mi hanno dato più Una trasmissione Anni dopo Soltanto appunto Quei insider Che mi hanno fermato Ma La dinamica era diversa Perché era diversa La situazione Oggi dov'è la società civile Che quando mi hanno cancellato Insider Dov'è 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 Ci sono dei paradossi Uno lo dicevi tu No Alla fine il monologo Circo L'avviene visto Da molte altre persone L'altra è In qualche misura Una sorta di sfacciataggine Ti faccio vedere Alla fine di un incontro Che Giorgia Meloni Ha avuto a Tunisi Con i corrispettivi Capi di Stato e di Governo Alla fine Non era prevista La conferenza stampa Perché la Tunisia non le prevede Così esce fuori Giorgia Meloni Dopo quell'incontro Guarda Contenta ancora una volta Di essere qui Questa è la mia Quarta visita Da Presidente Del Consiglio Italiano Sono molto contenta Di questa giornata Molto contenta Delle intese Che abbiamo firmato E molto contenta Delle prossime visite Dei ministri Che porteranno Ad altre intese Allora Non c'è solo il fatto Che non c'è nessuno davanti Ma c'è il fatto Che bastano Gli atteggiamenti Come se ci fosse qualcuno davanti Addirittura il grazie Ha detto a nessuno E bastano quelli Per convincerci Che c'è stata un'imperiazione Sai La democrazia E in questo senso L'antifascismo Ci insegnano Ci insegnano una cosa Non è che i diritti Sono lì Non è che il potere Da solo Riesce Ad autocoordinarsi Ad autolimitarsi A costruirsi Una dialettica Le cose le devi ottenere Se non c'è una controparte Se non c'è una parte Di mondo Che riesce A chiedere Che sia diverso L'atteggiamento Che questo tipo Di percorsi Chiaramente Illiberali Mutino Se non c'è questa parte Loro vanno avanti Secondo la rotta Questo è il problema Non è che Diventano Di improvviso Democratici Ma non solo loro Chiunque Al loro posto Se non incontrano problemi Perché li dovrebbero risolvere Assolutamente Loro Non c'hanno Nessuna forza Che riesce davvero A trasformare E a pretendere Che non ci sia questo linguaggio Che non ci sia questa arroganza Che non ci sia Attenzione Il modello di riferimento Che è Orban Io non penso affatto L'ho detto anche a Corriere della Sera Non penso affatto Che il modello Della Melonesia Mussolini Ma quando mai Il modello è Orban La democrazia è liberale Dove Alcuni soggetti Vengono bersagliati Per far scuola A tutti gli altri Ma Orban C'ha i suoi giornalisti critici Orban C'ha i produttori Che lo contestano Ma alcuni Sono fermati Alcuni Sono isolati Vessati E quando non direttamente Da loro I loro giornali Si arriva però A un modello Orban Se non ce n'è necessità Voglio dire Ove riuscissero A inanellare Una serie di successi Che gli portasse Un consenso sano Un consenso puro Legato al miglioramento Della situazione economica Avrebbero bisogno di questo Ti faccio vedere Prima di ascoltare la tua risposta Come Giorgia Meloni Ha risposto a Bruxelles Chi le chiedeva di dirsi antifascista Che ormai è diventato Un inseguimento In ogni parte del mondo In ogni punto d'Italia Dove vanno Vengono I giornalisti Si chiedono Sei o no antifascista E lei così ha risposto Quello che avevo da dire Sul fascismo L'ho detto cento volte E non ritengo Di doverlo ulteriormente ripetere Poi voi potrete Così continuare A riempire i titoli Dei vostri giornali Sostenendo che sono Una pericolosa fascista Penso che la gente Si renda conto Che Diciamo Gli estremisti In Italia Stanno da un'altra parte E Decisamente Non stanno al governo In questo momento Si riesce a sfuggire a tutto Anche alla base Sei antifascista o no? Sai Parto dalla risposta Alla domanda precedente Loro hanno bisogno Di questo modello Il liberale Perché senza menzogna Uscirebbero i loro fallimenti Dalle persone Si stanno accorgendo La benzina La questione Della migrazione È completamente Mal gestita Gli arrivi Ci sono lo stesso I morti in mare Sono altissimi I processi Dimostrano Che non c'era Alcuna invasione Che era tutto falso Quello che è stato detto Per anni Con cui hanno fatto Campagna elettorale E quindi Senza controllare O minacciare Gli intellettuali Loro rischiano Di vedere Raccontata la realtà Se le cose andassero bene Se i buti fossero bassi Se ci fosse davvero Come dire Una nuova marcia economica Potrebbero persino Dersi antifascisti Ma certo Sì Ma sull'antifascismo C'è un'altra cosa Che è interessante Io la ripeto spesso La ripeto spesso Perché secondo me Ha un valore Che va Oltre all'essere Nostalgica Riguardo alla Meloni O difendere Quel 5% Di radicali No C'è un concetto Preciso Che è La fascismo Che permette Di relegare Il fascismo Il nazismo Alla sola Vicenda storica Il fascismo Muore con Mussolini Quindi Io posso accedere A quella storia E a quei valori Senza sentirmi complice Perché quella storia È finita Nessuno può essere fascista Ma le categorie sono vive Stanno là E quello è il punto Cioè dichiararsi antifascista Significa entrare in un metodo Della democrazia Che loro rifiutano Ecco perché è importante Non è importante Che lei difenda I partigiani O che lei sia lì a dire Che Matteotto Era un martire Cosa che non ha detto Ma è importante Che dicendosi antifascista Entri in una visione democratica Che le impedirebbe Di dire queste cose ai giornalisti Allora Arriviamo sempre Attraverso il discorso Dell'identità Della nostra premier E del suo partito Al discorso della legalità Che poi è centrale Nel tuo ultimo libro Che è già un successo Come anche i tuoi precedenti E hanno dimenticato Il tema della legalità In qualche misura Completamente Da quanto non le senti parlare Da quanto non c'è una domanda Ci sono molte ragioni Innanzitutto Le organizzazioni criminali Sul piano internazionale Hanno un ruolo fondamentale Dall'Ucraina al Medio Oriente Dal Canada al Nord Africa E quindi tutto questo È come dire Non può non essere Elemento di dibattito Politico La quantità Di strategia economica Che le organizzazioni Criminali fanno Che determinano Il clima economico Di un paese È immenso Io provo con i libri A rimettere al centro Queste storie In questo caso addirittura Entro nella vita intima Dell'organizzazione criminale Nel controllo dei corpi Perché sai C'è una visione anche superficiale Delle organizzazioni criminali In questo senso Una delle cose che qui racconto È l'ossessione che hanno Le organizzazioni Alcune organizzazioni Per la monogamia Perché se tu tradisci tua moglie Potresti tradire anche La famiglia delle organizzazioni Quindi il clan Inizio il racconto con un personaggio Vicino al clan In America Cosa nostra americana Che sta giocando a poker Resta senza soldi E mette la foto della moglie Quando perde La moglie sarà costretta Ad andare con i vincitori E Cosa nostra Lo punisce Lo ammazza Per dire Così come l'omosessualità Deve essere assolutamente Dentro la regola All'organizzazione Quindi fin quando Non vieni scoperto L'organizzazione può tollerare Quando vieni scoperto Vieni condannato a morte E così E così Diciamo Vado di storia in storia A cercare di raccontare Come le organizzazioni criminali Ci riguardino Cioè nel momento in cui Non conosci le organizzazioni criminali Non stai conoscendo il tuo paese E te stesso Roberto Saviano Grazie per essere stato con noi In bocca al lupo Per il tuo lavoro Noi due ci apparteniamo Per noi Piccola parte